bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui su Rocket League per fare un po' di 3v3 competitive con la nuova Lamborghini ci arriviamo subito in partita per vincere bella siamo qui con la prima partita con la Lamborghini non sono molto abituato alle macchine stile Dominus con la Hitbox Dominus ma proleandoci perchè no non sono un po' in free to play per registrare il video che avete visto ieri sera e ieri pomeriggio ho fatto due video sulla Lamborghini dunque vediamo un po' proviamo a fare qualcosa, qualche trick proviamo a vincere soprattutto finchia brutto però ok bella, bella uomo comunque si danno bei tiri, bei cassaggi con questa macchina non so se voi l'avete presa nel caso codice sconto macgames.yt vedete il video di ieri sera se volete qualche informazione sui lati positivi, negativi era proprio la prima impressione ma nel caso vedremo se fare un altro video vado io e vado sto pure tu tocca me la vai che passaggi neanche, non male andiamo giù vamos prima vinta il team ha ragione let's go bella la macchina gialla, guarda ok, ci sono loro il ragazzo è il primo non mi ricordo sembrava il nome simile può essere ok, vediamo se riusci a metterla stava poco spazio a parco, volevo peccare tira ah, e difende pure ma che giocato Paolo Maldini peccato vabbè non critichiamo non critichiamo sono solo dei infami qualcuno nei commenti vuole leggere qualche 3v3? andiamo avanti non ci faccio più ve lo giuro aiutatemi ci è staccato non ci credo regalo non ci credo ma che è sta partita ma che te uh, vamos è il gol che dà fiducia la scuola terza partita del video prima partita vinta seconda partita persa purtroppo non abbiamo concluso molto a parte il gol che ho fatto troppo tardi dunque però alla fine non abbiamo nemmeno giocato male c'è stata qualche giocata interessante sono stupido questa è riuscita a nemmeno andare in un bastardo come la passa? no Paolo Maldini easy da volta guarda schiaffeggiamolo avanti vai la metto in mezzo la metto in mezzo si riesco Paolo Maldini sulla lì vabbè questa qua sta partita è un po' bella che porta a casa si avversale veramente sembra dei fagioli ragazzi il video del giorno finisce qui se volete altri video competitive con la Lamborghini o in generale il ranked 1v1 2v2 3v3 lasciate un bel like commentate iscrivetevi con la campanellina ci vediamo in un prossimo video bello bello